Divisi in due appuntamenti, uno nel mese di maggio, il prossimo 24 maggio e l'altro nel mese di giugno, il 7 giugno. Ci saranno agenzie di viaggio, quindi coloro che hanno direttamente il contatto e la vendita del prodotto sul territorio russo. Ed è la prima volta che abbiamo ospiti le agenzie di viaggio sul nostro territorio. La destinazione Cilento si offre, la presentiamo come una destinazione nuova e importante per il mercato russo che ha posto una grande attenzione nei confronti di questo mercato. Soprattutto nel nostro territorio. Sì, indubbiamente. Oggi abbiamo una buona possibilità per portare i russi nel Cilento e non solo nella provincia di Salento. Grazie a questo rapporto amicale da vent'anni con la Gartur, la quale ha preferito, dopo il mercato riminese, il Cilento come nuova location. Oggi siamo qui per pianificare quello che può essere un nuovo indotto turistico per la provincia di Salento.